allora raga oggi creeremo un avatar per la mia crash come dice raga questo qua è il mio avatar che volevo anche un po rifare e questo qua è quello del mio crash e oggi lo volevo un po rimettere a posto perché mi pareva molto carino che carino scusate sono pazza ma vabbè gli occhi mi pareva che andessero bene no questi sono orribili questi vediamo i capelli i capelli mi pare perfetti però c'è lui non filial marroni ce l'ha di questo colore ok poi volevo togliere questo perché non gli stava molto bene e questo per la domanda non lo so questo perché c'è magari questo con le braccia un po lunghe però voglio cambiare i colori oddio santo ok il nuovo avatar volevo rifare il mio perché raga io non sto c'è sicilia così diciamo però c'è i pantaloni non mi convincono e c'è perché i pantaloni che cambierò colore magari un azzurro molto chiaro tipo questo ecco tipo così carino 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 aspetta no 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 lo voglio bianco ok vabbè raga la cosa qua è il risultato aspetta non è ancora il risultato no è orribile mi stanno malissimo gli occhi di manga però io voglio levare quelli di prima io tipo alla mattina sono così o così direttamente così vabbè tipo tutte lo so raga sono pazza vabbè vabbè credo che li lascerò così vabbè raga spero che mi piaccia questo avaner e ciao